Professor Balandi, la considerazione dei diritti dei lavoratori nella nostra Costituzione risentiva ancora un po' dell'idea del proletariato che non aveva da perdere altro che le sue catene. Poi naturalmente sono venuti tempi più favorevoli, tempi del boom in cui forse i lavoratori se non potevano andare in paradiso certo potevano pensare di più alla conquista di un certo benessere che non al vecchio tema delle proprie catene. Oggi forse la situazione sta di nuovo cambiando oppure ci sbagliamo? Io credo che l'anello più forte della catena che era la sola cosa da perdere fosse proprio quello delle condizioni economiche. Quindi si può dire che nel periodo post costituzionale le catene si sono allentate, ma non sono certo sparite del tutto, tant'è che di tanto in tanto quelle catene si restringono di nuovo in termini che come nel tempo presente possono essere anche fortemente stringenti, drammatiche quasi. Comunque non mancano aspetti che conservano una forte e consistente attualità nelle norme che oggi prendiamo in esame e io vorrei incitarne in particolare due. Uno di questi aspetti è la parità di trattamento fra le lavoratrici e i lavoratori. Lo stabilire la Costituzione è un obiettivo che è stato perseguito con varie misure, non lo si può dire compiutamente raggiunto, tuttavia è una dimensione che è ancora fortemente all'ordine del giorno della normativa comunitaria, ma anche della legislazione e dei provvedimenti domestici in proposito. Il secondo aspetto che vorrei citare di permanente attualità, dove però l'andamento attuale è contrario di quello che ho appena detto, cioè di una legislazione che sostiene ancora quel progetto, è la determinazione dell'orario massimo di lavoro. Come è stato ricordato nella parte introduttiva, l'articolo 36 prevede che la durata massima della giornata lavorativa sia stabilita dalla legge. La Costituzione cioè prevede il suo strumento più forte, la riserva al Parlamento, alla legge di fissare la durata massima, perché è nella durata giornaliera che si determinano le condizioni di sfruttamento e quindi di attentato alla salute dei lavoratori. Bene, purtroppo quel limite di 8 ore, più eventualmente 2, stabilito nel 1923, a seguito delle lotte lunghissime per le 8 ore, culminate poi nel 1919 nella prima convenzione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, che stabiliva questo principio delle 8 ore, bene nel 2003, questo è stato abbandonato. La nostra legislazione non conosce più un massimo giornaliero, se non ricavabile a contrario dalla fissazione di un limite di 11 ore di riposo e quindi 24 meno 11. Oggi il limite implicito per di più è di 13 e non di 8 e quindi abbiamo un principio permanentemente valido che purtroppo nella legislazione attuale è stato in qualche modo disatteso. In questi articoli quando si parla di lavoro si vede che sullo sfondo ci sono presenti ancora i temi tradizionali, il lavoro agricolo e il lavoro operaio. Nell'epoca invece della prevalenza dell'impiego nel cosiddetto settore terziario, servizi e quant'altro, questa impostazione regge ancora o ci sarebbe bisogno di rivederla almeno un po'? Io credo che abbia ancora forti elementi di validità e vorrei citare di nuovo un frammento di questi dati costituzionali che regge proprio in relazione a quanto è stato appena sottolineato. Mi riferisco alla previsione secondo la quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa dal lavoratore alla sua famiglia. Bene, i mille lavoratori precari dei servizi oggi, che sono quindi un aspetto di quella modernità fra virgolette alla quale si può fare riferimento pensando a un superamento delle condizioni sociali dell'epoca della Costituente bene, quei mille lavori precari avrebbero bisogno proprio di una vigorosa riaffermazione e applicazione pratica di questo principio costituzionale quindi se ci sono elementi da rivedere e ripensare però tante strutture fondamentali a mio avviso reggono. Infine poniamoci il problema dell'immigrazione, quando la nostra carta fu scritta l'immigrazione italiana era ancora forte, era ancora una struttura portante di questo paese oggi il panorama è completamente diverso, semmai siamo divenuti terra di immigrazione. C'è qualche lezione che potremmo trarre da questi articoli per questa nuova situazione? Sì, questo è un punto nel quale non c'è dubbio che la formula costituzionale, la Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero appare oggi sia in relazione al cambiamento di prospettiva che è stato indicato, sia in relazione all'appartenenza all'Unione Europea che è sicuramente obsoleto. Resta però il fatto che l'insieme dei diritti di tutela del lavoro unito al principio di parità universalistica, di eguaglianza di tutti i cittadini e di tutti coloro che si trovano in una condizione di presenza sul territorio nazionale, imporrebbero oggi non tanto di ripensare il contenuto costituzionale quanto di esplicitare la necessità che anche i lavoratori immigrati, cioè coloro che oggi si trovano nella condizione che imponeva la tutela del lavoro italiano all'estero anche a favore dei lavoratori immigrati, oggetto spesso di discriminazione, oggetto di trattamenti vergognosamente indegni di un paese incivile, bene, per tutti costoro si affermasse in un'apposita norma costituzionale che quindi qui meriterebbe una revisione e si potesse affermare, il principio, peraltro a livello comunitario dell'Unione Europea già presente, di una parità di trattamento sugli elementi essenziali della loro posizione lavorativa.